Subito tre golle e la prima vittoria in campionato, importante se non fondamentale per il morale di una squadra profondamente rinnovata e composta da tanti giovani, alcuni dei quali al debutto tra i professionisti. Zeman sa benissimo che c'è bisogno di tempo, lo ha detto alla vigilia della sfida con la Juve Under 23, ma intanto è arrivato il primo successo, per inciso meritatissimo, dopo un precampionato non esattamente entusiasmante. E' eufemismo a parte, serviranno le opportune verifiche. La prima domenica prossima sul campo di un Perugia, forse ancora frastornato dalla sentenza del Consiglio di Stato che ne ha rigettato il ricorso per la riemissione in Serie B. Gli Umbri sono ancora un cantiere aperto, avranno la possibilità di operare sul mercato sino a venerdì prossimo 8 settembre. Ieri intanto il club di Santo Padre ha ingaggiato all'esterno mancino Federico Ricci, 29 anni, tanta via alle spalle e circa 40 presenze in A con le maglie di Roma, società nella quale è cresciuto calcisticamente Genoa e Sassuolo. Possibile il ritorno di Marco Fossati, già a Perugia in B nella stagione 2014-15, attualmente svincolato dopo un biegno in Croazia, con la maglia dell'Aiduc Spalato, centrocampista senza dubbio di spessore. Il Pescara dovrà rinunciare al nazionale Estone Tuniov, assenza oggettivamente pesante. In compenso saranno a disposizione gli ultimi arrivati di Pasquale e Franchini. Poche chance di recupero per Tommasini, qualche possibilità in più per Gianmarco Cangiano.